Di sequestrato il castello Colonna di Iopolo Giancazio nelle disponibilità del sindaco di Agrigento Calogioro Firetto e del fratello Mirko, entrambi indagati per abusivismo edilizio. Il provvedimento del Tribunale del Riesame è arrivato ieri dopo oltre un'ora e mezza di discussione portata avanti dagli avvocati Angelo Farruggia nell'interesse del sindaco Firetto, Gaetano e Denzo Caponnetto e Nini Reina che invece assistono il fratello Mirko. Linea difensiva comune che poggia le fondamenta su tutti i pareri e le autorizzazioni rilasciate dal comune della soprendendenza di Agrigento e dunque considerabili legittime. Si è anche ribadito il concetto che il castello di Iopolo è da considerarsi un bene completamente recuperato dell'incuria e dall'oblio. In udienza rappresenta il pubblico ministero Antonella Pandolfi che dopo aver chiesto un termine per visionare le nuove carte depositate ha ribadito il suo no al dissequestro. Il provvedimento risale allo scorso 20 dicembre firmato dal GIP Francesco Provenzano, misura che è stata eseguita dai carabinieri della locale stazione unitamente agli agenti della polizia giudiziaria. Non solo, è stato anche documentato come a seguito al provvedimento di sequestro nel dicembre scorso l'attività del castello è stata fortemente penalizzata dalle disdette. Infatti per il 2019 erano stati prenotati 108 banchetti inuziali, 54 dei quali sono stati disdetti, per non dire delle 60 famiglie che hanno trepidato per il rischio della perdita del posto di lavoro. Questo è il commento del sindaco Firetto. La giustizia fa il suo corso vicenda a sé Amara. Il collegio difensivo ha mandato di svolgere ogni utile iniziativa che consenta di giungere in tempi brevi necessariamente rapidi, i più rapidi possibili al chiarimento assoluto e definitivo. Alla base del sequestro l'accusa di avere realizzato opere non conformi alla normativa urbanistica edilizia, con conseguente pregiudizio per un bene dichiarato con apposito decreto assessoriale di interesse storico e culturale.